Ancora sangue sulle strade calabresi, vittima dell'incidente è una donna, Vittoria Mazzotta, 54enne di Francavilla, Angitola. Un incidente mortale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 40, nei pressi del Bivio dell'Angitola, in provincia di Vibo, Valencia. La vittima, alla guida di una Fiat 600, stava andando al mare e con lei in macchina c'era anche il figlio. A bordo dell'altra auto coinvolta, una Toyota Yaris, era alla guida un'altra donna del posto. Incerta ancora la dinamica dell'incidente, è stata chiusa intanto la strada dal Bivio di Francavilla fino all'Angitola, nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo.